Ci troviamo al Centro Culturale Mercato che propone una mostra diversa rispetto alle solite che fino ad ora sono state auspitate in quest'anno. È una mostra dedicata ai 30 anni della legge 180, meglio conosciuta come legge Basalia. Essere malattivimente vuol dire essere ghettizzato, questo vuol dire. Il problema fondamentale è dare la possibilità che non tanto la malattia mentale sia considerata come ogni altra malattia, dovevamo vedere cosa sono le altre malattie. Come è trattato il malato in genere nelle nostre organizzazioni sanitarie è una situazione di oppressione e non di liberazione da un male. Che ha sancito la chiusura dei manicomi, una legge estremamente moderna, estremamente innovativa, probabilmente la più innovativa in Europa e che ha dato degli importanti risultati dal punto di vista della terapia, del trattamento, del disagio psicologico. Perché Argenta ha scelto di fare questa mostra? Ma per alcuni aspetti decisamente importanti, legati proprio al territorio nostro, alla nostra provincia, una delle prime province in Italia, a fare delle sperimentazioni di apertura del manicomio alla città, quindi fuggire dal pregiudizio, dal preconcetti del manicomio come istituto chiuso. Nessuno doveva vedere, nessuno doveva sapere, il muro era alto, non solo un muro reale ma c'era anche un muro proprio di tipo culturale nei confronti dell'istituzione. Slavic invece, con i suoi collaboratori, ha iniziato ad aprire le porte del manicomio. E' ben difficile pensare di animare un luogo senza anima come il manicomio e, abbastanza singolare, sarebbe pretendere di rianimare persone alle quali tutta l'organizzazione della giornata manicomiale tolgono qualsiasi possibilità di vita sociale. Quindi a fare entrare la città all'interno del manicomio e a fare uscire i pazienti nella città, tant'è che alcuni mesi prima che venisse emanata la legge, Ferrara fece un convegno molto importante che si chiamava La scopa meravigliante, a cui partecipò anche Basaglia, tra l'altro uno dei primi convegni in cui si parlava, si iniziava a parlare di arte e terapia, il teatro come strumento per affrontare il problema del disagio, della difficoltà della comunicazione da parte dei pazienti psichiatrici. Quindi legandoci all'esperienza ferrarese abbiamo pensato di ripercorrere un po' quello che era la storia e il percorso di questo ospedale che è la parte della mostra illustrata dalle fotografie. Abbiamo voluto legare appunto il discorso all'arte, quindi l'arte come strumento di cura tra virgolette o di trattamento tra virgolette del disagio psichico e soprattutto facendo vedere cose che sono state ripinte sia dai pazienti dell'ex ospedale psichiatrico sia da invece persone che attualmente frequentano i centri diurni che sono tra gli allenamenti previsto alla legge 180 appunto che prevedeva la creazione con la chiusura dei manicomi, la creazione di strutture alternative, case famiglie, case protette, gruppi appartamento. La parte sottostante della mostra sono tutti i materiali prodotti attraverso laboratori, di stage e corsi fatte all'interno del centro diurno di Portomaggiore, nel Vesaldia, legato chiaramente al centro residenziale, il Basaglia che è collocato all'interno delle sue aree perché è un'esperienza veramente importante, un'esperienza che pur avendo come collocazione fisica Portomaggiore coinvolge anche il nostro territorio perché comunque ci sono persone del Comune di Argentina che frequentano sia il Basaglia che il centro diurno di Portomaggiore.